Ciao a tutti, sono Mr.Duck e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come andremo su Marte con questa nuova astronave costruita dal me e il nostro pilota Ronald Kerman, l'omino verde che vedete alla vostra destra in basso. Vediamo cosa succederà a questa astronave se riuscirà a salire oltre la atmosfera. Siamo partiti? Per ora tutto bene? E' un pozzico Zago. E' un pozzico Zago. E' un pozzico Zago. Vittoria. Oh mio Dio. Ce l'abbiamo fatta andare su Marte. E' un pozzico.